Non basta ricordare, né basta una giornata da dedicare alle vittime di tutti i totalitarismi. La memoria e la commemorazione hanno senso solo se il ricordo fa scaturire una profonda comprensione del male insito nella tragedia, un impegno alla non reiterazione, al rispetto dell'altro, alla condivisione di un progetto di un futuro positivo proteso ai valori democratici. E' il messaggio che parte dall'Istituto Comprensivo Giovanni Verga di Gela, diretto da Viviana Aldisio. Oggi gli alunni nell'auditorium del presso di Via Salonicco hanno celebrato la giornata della memoria, al fine di ricordare la Shoah, la storia della deportazione e dello sterminio del popolo ebraico nei campi nazisti. Oggi i ragazzi hanno messo in piedi quello che è un lavoro che hanno preparato nei giorni precedenti. Un dovere della scuola è quello di sensibilizzare queste giovani generazioni a crescere in termini di sensibilità e di senso critico nei confronti di quanti nella storia hanno sicuramente determinato delle pagine, diciamo, buie, dalle quali si vorrebbe tutti uscire. Rispetto all'oscurantismo che comunque in parte ancora oggi ci circonda, motivo per cui educare le giovani generazioni a criticare il passato, per vivere un presente e superare anche il buio dello stesso presente, sicuramente fa maturare nei nostri alunni una personalità, una identità completa. La drammaticità della narrazione realizzata oggi dai ragazzi ha mostrato la loro profonda riflessione storica maturata nel corso di una serie di attività svolte in classe nel corso dell'anno scolastico mirate alla maturazione di una educazione autenticamente democratica. Questa mattina sono stati impegnati gli alunni della scuola secondaria di primo grado nella drammatizzazione di testi poetici, brani della letteratura, canti, coreografie per commemorare le vittime dell'olocausto e lanciare un messaggio di speranza rivolto al mondo intero per non disperdere il patrimonio dei fatti della storia, per evitare l'indifferenza. Stiamo rappresentando appunto gli angeli che sono morti, gli ebrei, che sono morti durante appunto questa guerra e vogliamo dare un insegnamento, vogliamo far capire che comunque quello che è stato fatto è sbagliatissimo e dobbiamo spiegare come invece dovrebbe andare il mondo. Non ci sono razze inferiori, siamo tutti uguali e che bisogna imparare a convivere con chi è diverso da noi. Un messaggio che abbiamo lanciato e che è anche molto importante è quello di scendere dal piedistallo su cui molte persone si pongono perché proprio per questo molte volte la gente viene discriminata.